Adotta un reparto il nostro appuntamento fisso che vi accompagna a conoscere le varie realtà di eccellenza dell'ospedale di Bassano. Appuntamento che potete seguire ogni martedì alle 19.40, mercoledì alle 13.45 e mezzanotte e mezza e domenica alle 16.15. Questa settimana scopriamo l'unità operativa di chirurgia vascolare con la sua attività di ambulatori, ricoveri, diagnosi, visite specialistiche, interventi chirurgici con la tecnologia più avanzata. La chirurgia vascolare si occupa della cura e anche della prevenzione delle malattie, delle arterie e delle vene. L'intervento del chirurgo toracico avviene così spesso in collaborazione con altri specialisti. Nel percorso tipico di un paziente si parte dall'ambulatorio con una visita oppure da un esame diagnostico deciso dallo specialista. Il primo punto è la visita ambulatoriale che può essere una visita di chirurgia vascolare se si è già indirizzati verso la tipologia di malattia oppure una diagnostica di primo livello che consiste nell'ecodopper. E nel day hospital si studia a fondo il paziente, programmando gli esami più adatti, poi si sceglie il tipo di intervento chirurgico da eseguire. Che può essere sia il tipo percutaneo, quindi la correzione della lesione mediante delle punture, oppure l'altro tipologia di intervento di natura open, quindi si va a fare un intervento chirurgico vero e proprio. Il futuro porta la chirurgia vascolare, per così dire, in trasferta dal San Bassiano, cuore centrale di questa specialità, verso le altre sedi dell'Ul7, Sant'Orso e Asiago. Da una parte il portare una struttura ambulatoriale specialistica nel distretto 2, nel caso dell'ospedale di Sant'Orso, e dall'altra parte l'ospedale di Alto Piano, ad Asiago, stiamo creando, è partito praticamente due settimane fa, un centro di flebologia. Il futuro di chirurgia vascolare, insomma, è una garanzia di qualità e innovazione per la sanità della pedemontana. Grazie.